Bene, buonasera, ringrazio i sessori che sono qua con noi stasera, oggi abbiamo uno scorso pomeriggio intenso, piacevolissimo, lungo, ci sono alcune persone che hanno seguito l'intero pomeriggio che si è concluso alle 19.30 con una sala piena che ci ha reso molto contenti di questo piano, che poi probabilmente pubbliceremo domani su Facebook e sui social, e così è tutto con il teatro e la musica che è stata prodotta dalla banda musicale, da alcuni membri dei scelti maestri della banda musicale. Il pomeriggio si è aperto con un teologa di fama internazionale che a Milano ci ha aggiunto e ha spiegato in un'oretta, certo forse serviva qualche mesetto, l'agibilità di Anzù, così abbiamo capito e scoperto che è partito 5.600 anni fa. La collana sarà disponibile con i suoi tre libri ai primi di agosto su tutte le piattaforme italiane nazionali e anche sulla nostra. Però questa sera io ho il grande piacere di avere con noi il sindaco del Comune di Olio e il Presidente della giuria, nonché amico personale, Giorno Pozzetti. Perché? Perché ci illustrano il primo veterario Alessandri, che è un vittore piemontese, che ha lasciato a mio avviso e perché ha avuto l'opportunità di conoscerlo un grande tratto, un segno distintivo. Quindi questo concorso, che è indirizzato al suo ricordo, alla sua figura, di cui vedrete anche, vedrete quelle immagini che saranno illustrata, secondo me, è meritevole soltanto per questo. Per il concorso naturalmente vi parleranno i diritti interessati. Il concorso è organizzato dal Comune di Olio in collaborazione con la sensazione dei tre dimensioni. Io darei immediatamente la parola al sindaco che ci illustra la sua realtà e per il concorso subito dopo al Presidente della giuria, Giovanni Pozzetti. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Intanto ringrazio Ennio Pedrini per questo invito e anche per l'aiuto, lui non lo ha detto, ma è uno dei partner, collaboratore del pre-colterario Lorenzo Alessandri. E quindi lo ringrazio a nome personale e anche a nome di tutta l'amministrazione comunale. Ci ha invitato questa sera, in questa bellissima chiesa, io non l'avevo mai visitata, sono stata accompagnata prima, è un piccolo gioiello veramente in canavese, in canavese ne abbiamo tanti gioielli e penso proprio che sia uno di questi gioielli, anche un punto storico sicuramente da valorizzare. E un altro gioiello, io lo definisco così, è il nostro piccolo paese, perché è un paesino piccolissimo di 750 abitanti. Mi fa piacere che questa sera vedo alcuni oriezzi in sala, mi fa veramente piacere. E questo piccolo paese che si trova posto, questa collina morenica, lato sud della Morena di Ivrea, circa un anno fa è arrivata una proposta. È arrivata una proposta, quindi ci è stato chiesto, mi piacerebbe essere sede della premiazione del premio letterario dedicato a Lorenzo Alessandri. E noi ovviamente abbiamo detto sì, assolutamente sì, anche perché Lorenzo Alessandri è, come si è detto prima, uno dei massimi esponenti del surrealismo a livello europeo, perché ora non solo nazionale, ed è appunto via Montese, perché nasce Tolino, muore Gioveno e la sua vita la trascorre tra queste due città. E quindi ben volentieri abbiamo detto sì, e di qui abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo iniziato a lavorare con Ennio Pedrini, abbiamo iniziato a lavorare con l'associazione delle tre dimensioni, con Giovanni. Per noi l'intenzione è stata un'esperienza totalmente nuova, totalmente nuova che ha permesso di far conoscere il nostro paese, perché il premio, appunto, questa occasione viene presentato e possiamo qui a Ivrea parlare del nostro piccolo paese, un piccolo paese che è un po' un corvo proprio su una collina e per due settimane, nel mese di settembre, avrà questo evento importante, perché sì, ci sarà il premio letterario, che avverrà il 16 di settembre, ma in realtà del 9 di settembre, proprio in occasione della festa patronale, si aprirà anche una mostra proprio dedicata a Lorenzo Alessandri, con, dovrebbero essere 17 opere, un numero preciso non ce l'abbiamo ancora, tutte quante opere dell'artista provenienti da collezioni private, qualcuna addirittura mai esposta al pubblico, quindi sarà un evento molto interessante e grazie all'impegno di tutti, e questo bisogna sottolinearlo, l'entrata alla mostra sarà gratuita, quindi un evento veramente importante. segniamo la data, il 16 settembre. Il 16 settembre la premiazione e il 9 di settembre l'inaugurazione della mostra, che durerà due settimane, ovviamente in queste due settimane ci saranno tanti momenti, tanti eventi, grazie alle associazioni proprio che hanno collaborato, dalla Proloco all'associazione Caleidos, al Unitradicaluso, momenti veramente importanti, che ci faranno conoscere sì questo artista, ma ci faranno conoscere anche il territorio, perché anche i turoperenti sono interessati a questo evento, e quindi si avvinerà odio ad altre bellezze canalesane e anche naturalistiche. Io adesso non mi dilungherei oltre e passerei la parola a Giovanni, che appunto è il presidente di giuria, la teoria si è già riunita, e ha già decretato i vincitori che per noi sono ancora sconosciuti, ma la teoria li ha già decretati, e adesso passo ancora a te. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti voi, grazie a Ennio, grazie a Alessandro, a Lorenzo Alessandri, un perfetto sconosciuto fino, parlo per me, fino a tre anni fa, quando mi hanno coinvolto in questo concorso, io ho fatto da parte di altri concorsi, questo è una cosa ancora di densa, perché portare un Lorenzo Alessandri, che adesso può valere quel che va, comunque, più volte il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha inserito delle opere di Alessandri nelle sue mostre, per esempio, nella mostra Almat di Roveretto, attualmente, sono due quadri suoi esposti. Al di là di quello che può valere questo, vuol dire comunque che stiamo parlando di un pittore importante. Qualcuno ha avuto l'idea di legare alla figura di Alessandri un riconoscimento, che poi si chiama concorso, è comunque un riconoscimento a quello che è stato lui sia come pittore e anche come scrittore e poeta. Peraltro, lui scrisse un libro, l'1 di agosto del 1975, edito da Priori e Verluca, che è una cosa abbastanza particolare, se vogliamo, cioè il mondo, come si dice sovente, non è poi così grande, quindi ci troviamo questo Lorenzo Alessandri che viene a pubblicare un libro da una casa editrice di Ivrea, in Canavese e il Canavese poi lo accoglie. L'ho accolto già l'anno scorso, la seconda edizione del concorso, ha visto la cerimonia di premiazione a Cucelio della Genuta Roletto. L'anno prima l'abbiamo fatta a Collegio, quello che era l'ex manicomio. E quest'anno, quest'anno lo faremo, tutta la cerimonia, noi speriamo sicuramente, ma sarà sicuramente così, una cerimonia importante, verrà tutta svolta nel paese di Polio, nel comune, nel salone del comune, fuori, perché ci saranno delle sorprese anche all'esterno, nella piazza del comune, ci sarà una sorpresa, tra le tante sorprese che, insieme appunto con la Proloco e altre organizzazioni, sicuramente faranno sì che quel 16 di settembre sia un sabato da ricordare. Peraltro tutto, come ha detto la sala, la sindaca, comincia il venerdì, il sabato prima. Il sabato prima c'è l'inaugurazione della mostra, il quale ha collaborato in modo significativo anche Elio, vi permetto, ecco, voi per favore, questo è uno dei quadri, come si chiama questa? È una... Una civetta. Una civetta. No, 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 ma è una stampa litografica, una stampa litografica, di un barbagianni, un barbagianni con il cappotto e questo dà l'idea di cosa vi troverete a venire a visitare, a venire ad ammirare i quadri di Lorenzo Alessandri. Se volete andare poi a curiosare su internet, adesso è facile, no? Andate a vedere gli atterraggi. Gli atterraggi sono delle cose, a mio modo di vedere, stupende. Ma veramente una cosa... Ma era tutto un po' poi... Giovanni, lui permetto per i più giovani, ma proprio giovani, però mangiorelli, cliccate sul Fanta, Alessandri, vedrete delle cose meravigliose. Ah, sul Fanta. Sì. Surreale fantasia. Sul Fanta. Quindi, tra l'altro, questi saranno il premio anche per le persone che saranno... che la giuria avrà giudicato meritorie di essere premiate per la sezione racconti. Ecco, racconti brevi. Perché Lorenzo Alessandri scriveva racconti. Scriveva racconti brevi. E allora noi abbiamo... Abbiamo continuato. Abbiamo pensato che un racconto breve, in sua memoria, le poesie. Lui scriveva poesie, diciamo, molto sintetiche. Aveva un dono della sintesi importante. E abbiamo aperto anche alle, diciamo, alle scuole, ai ragazzi, ai bambini. Addirittura quest'anno abbiamo avuto anche la partecipazione delle scuole elementari che si sono espresse con dei lavori veramente da vedere, incredibili. Questo concorso è seguito... Noi in questi anni, in questi due anni che hanno preceduto questo terzo anno, abbiamo premiato letteralmente persone, autori, da tutta l'Italia. Tutta l'Italia nel senso Taranto, Bolzano. L'Emilia Romagna, diciamo, ha curoneggiato. L'Ario di Bervagno, così cosa. Insomma, c'è una partecipazione anche numerica che non ci aspettavamo. E la qualità è veramente sempre una buona, una ottima qualità. Io sono il Presidente di giuria, ma diciamo che, va bene, insieme con me ci sono dei signori... tutti parlapattuti, laureati, eh? Attenzione. L'unico non laureato sono io. Io ogni tanto scrivo qualcosa e quindi mi hanno chiamato... È la palestra della vita, eh? Com'è? È la palestra della vita, questa. È una laurea di amore, credimi, nei tempi più poco. Pensa che io sono un meccanico. No, per dire, no? E difatti tra noi annoveriamo un avvocato, un'editrice, una scrittrice pluripremiata a livello nazionale e internazionale, un collezionista d'arte e anche un mercato d'arte, una psicologa nonché psicoterapeuta. E, bene, se potrebbe anche andare avanti per... ecco, Alessandri parla ai bambini con un linguaggio a loro noto. quello dei colori sgargianti e pastello dei loro libri, degli aerei disegnati, delle illustrazioni e delle favole che mescolano il lupo cattivo e i bravi bambini, le streghe e gli occhi con le fate e gli intrepidi cavalieri. perché nei dipinti di Alessandri il bene e il male vanno sempre a braccetto come nelle favole per i bambini. Questo è stato anche, anche questo è stato avversato. Pensate, voi più, che insieme con Colosimo, Peter Colosimo, fantascienza, lui e questi due signori qui, insieme con altre persone, si sono inventati il mito del Musinè. Il Musinè, ecco, era una montagna, ne vera, ne verità, e appena fuori arrivò lì, fatta in un certo modo, si sono inventati, questo hanno tirato fuori il mistero del Musinè. Lo hanno, lo hanno, lo hanno, lo hanno reso palpabile, lo hanno reso vivibile, lo hanno reso addirittura, per cesticare, un po' inquietabile. Ma, ma, proprio per questo hanno contribuito a uno sviluppo turistico del Musinè impensabile. Le vie del turismo sono infinite. Quindi, vi aspettiamo tutti sabato 16 del settembre, con delle sorprese che neanche vi potete immaginare. Avremo anche la prologo che probabilmente, diciamo che ci aiuterà nel, non so, i pasti, non pasti, cioè, insomma, ci aiuterà in un po' di cose. Sarà una bella festa. Grazie per l'attenzione. Grazie. E grazie a Giuliana per il cifras. Io volevo ancora ringraziare Giovanni Confetti, che per questa meritoria opera, che poi prestigiosa, io mi auguro che continui a crescere nel tempo, perché è meritevole che si inizia a ricordare, un grande artista pianotese, Vittorino, molto conosciuto. Io ricordo che quando ho diretto, per una decina d'anni, un periodico che era di Vittorino e storiudicia, e si interessava di arte, prevalentemente di arte, è stato citato fuori. Alcuni suoi articoli sono stati pubblicati anche su una gazzetta del Canavese, dirigevo anch'essa negli anni 90, e direi che è essenzialmente un'operazione culturale, che bene avete fatto collegata con una bella realtà come Orio. Io a Orio Canavese penso, come molti qui presenti, non ne ero mai stato. Ho avuto l'opportunità, grazie al preghito e all'accoglienza della Sindaca, di conoscere la vostra comunità, e quindi vi invito alla seconda settimana di settembre, perché è il weekend del 6, del primo weekend del 9, esatto, 9-10. Allora, rimarrete assolutamente soddisfatti, tanto più che avete appena sentito, non bisogna neppure pagare l'ingresso. Ecco, questa nota di merito, penso che non è così da poco in tempi come questi. Vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie a te per aver guardato. Grazie. Grazie.